sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria oggi è una splendida domenica che il Signore ci dona e allora vogliamo inneggiare alla vita da buoni credenti sia alla vita noi cattolici siamo come ci insegnava Giovanni Paolo II il grande apostolo di Maria difensori della vita vogliamo sempre dire che la vita è un grande dono di Dio il Vangelo ce lo ricorda non siamo possessori della vita ma amministratori e allora come amministratori sappiamo che la vita è dono di Dio e questo ci riempie sempre di gioia carissimi ho visto ieri l'immagine del padre carissimo che è morto padre Amort nella bara ecco i giornali e soprattutto i telegiornali non ne hanno parlato questo ci rammarica la morte di Carlo Azeio Ciampi ha riempito le cronache dei telegiornali come era anche giusto però dimenticarlo non è stato bello e allora vogliamo ricordarlo ancora una volta noi ricordando che sua mamma lo aveva consacrato al cuore immacolato di Maria fin quando era nel grembo materno care mamme consacrate i vostri bambini a Dio mi viene in mente quella mamma che ha portato in Belgio il proprio bambino non sappiamo come si chiamava quanti anni avesse di che cosa stava male lo ha portato in in ospedale per ricevere poi l'eutanasia ecco l'ha ucciso in pratica con le leggi statali care mamme inneggiate alla vita con i vostri bambini no all'aborto no all'eutanasia sia alla vita in tutti i suoi aspetti anche quando si soffre arriva la malattia chi ha fede sa che la malattia non è una condanna e non c'è spazio per la disperazione perché tutto è dono di Dio vi ricordo la testimonianza recente di chiara luce badano no e si è fatta santa nella sofferenza ecco allora mamme portate i vostri bambini in chiesa consacrate la madonna oggi è domenica portate i vostri bambini all'incontro con Gesù sia alla vita carissimi e vi auguro una buona domenica e da questo luogo incantevole che si trova vicino casa casa vedete la spiaggia vedete il mare che oggi è veramente molto calmo e tutto loda loda il signore questo cielo così bello vi benedico e vi auguro una domenica piena della pace della gioia e della luce di nostro signore gesù cristo crocifisso e risorto e così sia alla vita sia alla gioia i cristiani testimoniamo in questo mondo senza dio in questa notte etica che caratterizza il nostro tempo testimoniamo la luce del vangelo vi benedico con tutto il cuore cari amici di radio domina nostra il signore vi custodisca e vi protegga da ogni male amen sia lodato gesù cristo